Nella giunta comunale del 21 novembre si è parlato della messa in sicurezza delle strade e la loro condizione che ormai necessitano degli interventi urgenti per via del loro degrado ed è un problema presente in tutto il comune agropolese. A tal proposito l'amministrazione comunale retta dal sindaco Damocoppola ha deliberato due proposte che puntano a risolvere le varie situazioni di disagio stradale presenti nella cittadina. Gli interventi deliberati sono la realizzazione di una rotatoria stradale sulla strada comunale Marrota e Via del Mare ex strada statale 267 e degli importanti lavori di messa in sicurezza delle strade comunali. Il primo intervento è ritenuto necessario dall'amministrazione al fine di migliorare la viabilità comunale. Infatti la rotatoria che sarà realizzata nei pressi dell'ospedale consentirà di rendere più facile l'inserimento sulla viabilità principale dei mezzi provenienti da e verso il centro città attualmente caratterizzata da un incrocio canalizzato ha elevato grado di pericolosità per la scarsa visibilità, le ridotte dimensioni delle carreggiate e la promiscua direttiva di traffico in ingresso-uscita, unita ad un traffico veicolare sostenuto anche dai mezzi pesanti diretti verso l'area portuale e il centro cittadino. Le spese complessive dell'intervento sono di 184 mila euro, di cui 145 per i lavori e oneri per la sicurezza e 38 mila euro circa a disposizione dell'amministrazione comunale. Il secondo intervento previsto è ben più ingente e necessario, infatti si tratta di lavori su buona parte delle strade comunali al fine di metterle in sicurezza, visto che versano in pessimo stato di manutenzione e la situazione si è pesantemente aggravata con le piogge copiose dell'inverno trascorso e in ultimo delle piogge torrenziali avute nel mese scorso. Il livello di degrado è arrivato al tal punto che la manutenzione ordinaria non è più possibile. L'ufficio tecnico ha individuato infatti alcuni interventi prioritari anche in base alle richieste che provengono dalla cittadinanza e alle segnalazioni da parte dell'amministrazione comunale stessa. Il progetto definitivo prevede 500 mila euro destinati a questa serie di interventi, di cui circa 410 mila euro per i lavori. Entrambi gli interventi saranno finanziati con dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, SPA. Il sindaco Coppola e l'amministrazione puntano a risolvere un problema che affligge il comune di Agropoli da ormai troppo tempo e a rendere le strade agropolesi sempre più sicure.